ciao a tutti benvenuti o ben ritrovati sul mio canale oggi andremo a realizzare insieme un set da caffè questo tutorial mi è stato chiesto da una persona su facebook che cercava praticamente lo schema di una macchinetta da caffè che però non riusciva a trovare io ho praticamente fatto la mia versione spero che vi piaccia e oltre alla moca ho deciso di abbinare appunto una tazzina spero quindi che questo progetto sia di vostro gradimento e adesso mettiamoci al lavoro per questo progetto avremo bisogno di lana acrilica rosa grigia poi un po di lana acrilica marrone questa sembra nera ma in realtà è marrone molto scuro poi un marroncino più chiaro ovviamente un uncinetto da 3 mm forbici una goda lana marca punti e infine avremo bisogno di due cerchietti di cartoncino uno dal diametro di 8 centimetri e l'altro dal diametro di 4 centimetri come ogni amigurumi ovviamente avremo bisogno di ovatta da imbottitura e inoltre io utilizzerò delle perline bianche per dare un punto luce la prima cosa da fare è quella di realizzare il corpo della nostra caffettiera quindi partendo dal basso lavoriamo il fondo e poi man mano saliamo in altezza come vedete io ho utilizzato due colori diversi per la parte bassa e la parte alta ovviamente questa è una cosa facoltativa perché potreste utilizzare anche un unico colore adesso per dare la forma alla nostra caffettiera ovviamente la andiamo ad imbottire con un po di ovatta però prima io vi consiglio di mettere il dischetto di cartoncino sul fondo così da renderla più stabile e andiamo ad imbottirla ho dimenticato di dirvi che quando lavorate il corpo della caffettiera dovete stare attenti agli ultimi giri perché come vedete qui si realizzano degli aumenti solo su un lato per ricreare il beccuccio per versare il caffè quindi adesso dopo aver imbottito tutta la caffettiera andiamo a realizzare il coperchio il pomellino che sta sul coperchio della caffettiera e ovviamente il manico dopo aver liberato la caffettiera dei fili in eccesso e dopo aver lavorato il coperchio andiamo a cucire con un ago il coperchio sulla caffettiera quindi con lago vado a puntare nella costina che sta più verso l'esterno e aggancio il filo e tiro vado adesso a puntare il lago nella costina sempre più interna del coperchio e tiro il filo ancora mi aggancio sulla costina più interna della caffettiera e tiro e vado adesso a puntare il lago nel punto nella costina più interna del coperchio ve lo mostro ancora una volta questo qui è l'ultimo punto basso del giro della caffettiera questa qui è la costina più esterna io vado a prendere soltanto quella più interna cioè quella più vicina al coperchio e tiro il filo questo qui invece l'ultimo punto basso del coperchio quindi io lascio libera la costina più lontana ma vado a prendere soltanto questa qui più vicina alla caffettiera quindi punto con lago e tiro il filo e continuo a cuscire in questo modo fino a raggiungere l'altro lato arrivati a questo punto imbottite ancora un po la vostra moca se vi rendete conto che l'ovatta è poca quindi cosa facciamo schiacciamo il coperchio tiriamo fuori il beccuccio e sempre con dei punti nascosti andiamo a cuscire l'ultimo pezzettino del coperchio sulla moca quindi sempre con l'ago puntiamo in un punto del beccuccio tiriamo il filo e ci andiamo ad agganciare nel punto basso del coperchio ancora andiamo sul beccuccio qui andiamo a prendere un po le maglie insomma come meglio possiamo e ancora andiamo a puntare nel coperchio e continuiamo così per tutta questa parte adesso sempre con l'ago andiamo a cuscire ovviamente il manico della nostra caffettiera e il pomillino come vedete io li ho entrambi imbottiti assemblati tutti i pezzi della caffettiera occupiamoci adesso della tazzina quindi lavoriamo appunto la tazzina il suo manico e il caffè come vedete il caffè io ho preferito lavorarlo utilizzando due colori facendo un giro con un colore marroncino più chiaro e un giro utilizzando un marrone più scuro ovviamente questo è un passaggio facoltativo perché potreste comunque realizzare l'intero cerchietto con lo stesso colore prendiamo adesso quindi la tazzina mettiamo sul fondo il cerchietto quello più piccolo di 4 centimetri la imbottiamo con un pochino di ovatta e con l'ago andiamo a cuscire all'interno il caffè però cercando di tenerci comunque un po più bassi quindi non vi consiglio di cuscire diciamo il caffè sul bordo ma tenendovi qualche giro più in basso quindi più o meno qui e poi alla fine sempre con l'ago andiamo a cuscire il manico ed ecco qui che anche la tazzina è assemblata adesso ho deciso di realizzare questi due fiorellini preziositi da una perlina in modo tale da abbellire un po di più il mio set da caffè quindi praticamente metterò un fiorellino qui e un fiorellino invece sulla tazzina quindi per lavorare i fiorellini prendiamo il nostro filato rosa e lavoriamo cinque punti bassi all'interno di un cerchio magico stringiamo il cerchio magico e chiudiamo in tondo con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro da qui lavoriamo 3 catenelle mettiamo il filo sull'uncinetto come se volessimo lavorare una maglia alta quindi puntiamo nello stesso punto da dove sono partite le catenelle e tiriamo il filo in alto allunghiamolo un po sull'uncinetto senza chiudere la maglia quindi raccogliamo di nuovo il filo andiamo di nuovo nello stesso punto tiriamo il filo e allunghiamo tutte le maglie sull'uncinetto come vedete adesso sull'uncinetto dovrebbero esserci una due tre quattro e cinque fili a questo punto raccogliamo il filo lo lasciamo passare attraverso tutti i cinque fili e chiudiamo con una catenella lavoriamo altre due catenelle andiamo nel punto basso successivo e lavoriamo un punto bassissimo abbiamo in questo modo realizzato il primo petalo vi faccio vedere quindi come realizzare anche anche il secondo petalo che sarà identico al primo quindi lavoriamo tre catenelle mettiamo il filo sull'uncinetto andiamo nello stesso punto da dove sono partite le catenelle e raccogliamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto ancora raccogliamo il filo andiamo di nuovo nello stesso punto e tiriamo il filo quando abbiamo cinque fili sull'uncinetto uno due tre quattro e cinque raccogliamo di nuovo il filo lo lasciamo passare attraverso tutti e cinque fili e chiudiamo con una catenella lavoriamo ancora altre due catenelle andiamo nel punto basso successivo e lavoriamo un punto bassissimo e facciamo questa operazione per altre tre volte fino a realizzare ad ottenere insomma un totale di cinque petali lavorato quindi anche l'ultimo petalo andiamo nel primissimo punto basso del giro precedente chiudiamo con un punto bassissimo la lavorazione a questo punto possiamo anche tirare tagliare il filo e nascondere ovviamente i fili di lavorazione in questo momento vi sembra che questo fiore sia più grande rispetto a quello che io ho lavorato in precedenza effettivamente è più grande perché di solito tendo a lavorare più larga quando lavoro mentre registro insomma perché probabilmente perché sarò più lontana rispetto al lavoro mentre quando lavoro tra me e me insomma tendo a realizzare i punti più stretti ovviamente potete lasciare il fiorellino così com'è oppure fare come me e aggiungere una perlina per dare un punto luce ed ecco qui pronto il mio set da caffè quindi la tazzina e la moca spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia utile mi raccomando fatemelo sapere sempre con un mi piace o un commentino e non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi ricordo che se rifate questo o un altro mio tutorial potete inviarmi le foto sulla mia pagina facebook su instagram su google plus potete inviarmi un'email insomma giù nell'info box trovate tutti i miei contatti se mi lasciate permesso vedrete la vostra foto in uno dei miei prossimi video io vado a gustarmi il mio caffè e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao